Questo è una Samsung, si prova, la prova, provo, 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 eh, guardate, là, questo, via, l'ho fatto, lo faccio. Procchi e finalmente polmono. Leggera! 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 Questo è il 2020, eh. E' il muco, quel liquido di lavaggio che tra poco vedrete entrare in azione, mentre le ignare e le bollicine continuano la loro divertente corsa. Fatto. Da cosa? Da cosa? Da cosa? Da cosa? Fatto. Fatto. del coppio e il loro lungo viaggio prosegue. Così va bene. Fatto. Il calendario. 3 minuti. Guarda. Così va bene. Accomodatevi. Fate ancora un piccolo sforzo che hanno vinto. Così va bene. Anzi direi che è vero. Perfetto. Avanti. Adesso tocca a noi. Qui. Leute per finirare. Test lamentarsi nella sua мыり.